numero 5 pantaloni sportivi per uomo realizzati in cotone al 70 per cento e poliestere al 30 per cento vita con elastico lavabile in lavatrice ottimo rapporto qualità prezzo se ti interessa questo prodotto o vuoi sapere il suo prezzo clicca il link in descrizione in basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto su amazon numero 4 pantaloni sportivi realizzati in poliestere vestibilità slim con chiusura pull on lavabile in lavatrice questi pantaloni sono dotati della tecnologia traspirante aeroready questo prodotto è stato realizzato con prime green una combinazione di materiali riciclati ad alte prestazioni in basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto numero 3 pantaloni sportivi per uomo massimo comfort realizzato in materiale sintetico chiusura con culiss lavabile in lavatrice trovi il link di questo articolo in descrizione numero 2 pantaloni sportivi slim con interno in pile vita elastica con cordino di regolazione con logo stampato sul davanti dispone di due tasche laterali e una posteriore lavabile in lavatrice realizzato in cotone all 80 per cento in poliestere al 20 per cento disponibile in diversi colori in descrizione trovi il link di questo prodotto numero 1 pantalone sportivo uomo realizzato in materiale resistente e leggero presenta un ottimo grado di traspirabilità chiusura con culiss lavabile in lavatrice ideale per attività sportive o per uno stile casual ottimo articolo il prezzo di questo articolo è consultabile attraverso il link in descrizione